da quello che ho potuto vedere mi è sembrato così che Tassotti volesse prendere la palla ma involontariamente ha colpito il volto Oriane chiediamo tanto per rispettare le formalità tradizionali come va la vita Lele? ma io direi abbastanza bene, ho già subito il corpo fra l'altro mi sembra che sia anche cucito abbastanza bene quindi tutto risolto però